Con le risorse che siamo riusciti ad ottenere dal Governo nazionale siamo in condizione di dire partono i lavori e nell'arco di un anno e mezzo la situazione crescerà sotto il profilo della tutela della sicurezza in maniera consistente e percepibile al punto che se si dovesse verificare, mi ripeto, un evento analogo a quello dell'anno scorso, non mi voglio avventurare più di tanto, ma insomma dovremmo tenere i piedi all'asciutto. Ecco lo nero su bianco l'elenco delle 18 opere che andranno a ridurre il rischio idraulico ad Arezzo e Siena, principalmente però nel territorio aretino. La conferma dell'arrivo dei fondi governativi, 16 milioni di euro, è arrivata lo scorso primo luglio. Ad Arezzo ne andranno 13 per interventi in opere idrauliche che metteranno in sicurezza il territorio e che andranno ad intervenire principalmente sul Vingone e sul Valtina, ma anche nelle zone critiche della città che un anno fa andarono sott'acqua. Un'alluvione che costò anche una vita umana. I lavori dovrebbero partire entro l'autunno e concludersi nella primavera del 2021. Quello toscano è indubbiamente un modello virtuoso, come ha sottolineato il presidente Enrico Rossi, nominato commissario. Noi abbiamo spesso per i primi interventi di ripristino, fatti in sommogenza, chiamando direttamente le imprese, qualcosa come poco meno di 3 milioni di euro. E più abbiamo dato cifre assolutamente irrisorie di qualche decina di migliaia di euro di soccorso immediato ai privati tramite i comuni. A luglio di quest'anno, il primo di luglio, ci è arrivato il riconoscimento della dichiarazione di stato d'emergenza, un po' tardiva ma per la verità soddisfacente dal punto di vista dei finanziamenti. Ci sono arrivati 16 milioni di euro, noi avevamo già predisposto una serie di interventi con l'ente realizzatore per mettere questa zona in condizione di poter far fronte ad un evento analogo a quello che si è verificato l'anno scorso, ovviamente senza dover subire le conseguenze nefaste che ci sono state. Sono una serie di interventi per i quali il soggetto attuatore è o il genio civile, o il consorzio idraulico, sono i comuni interessati. I progetti ormai sono in stato avanzato di elaborazione. Si tratta di progetti di riassetto idraulico sui canali, sulle fosse, sui ripristini che sono da farsi anche delle arginature. Vi assicuro che tutto questo è un successo perché sono opere che abbiamo visto, sono state attese da tanto tempo e perché modificano e alzano moltissimo il livello di sicurezza idraulica di queste zone. Ci sono anche finanziamenti per i privati, per la verità non grandi dimensioni, si tratta di un milione, sono il frutto di una raccolta di prime denunce che fu fatta l'anno scorso da parte dei comuni e adesso noi a questi privati chiediamo di produrre la documentazione, cioè chiediamo di produrre le fatture. Lo Stato non può che pagare sulla base della produzione di concrete fatture. Di più ci sono 12 imprese agricole e anche queste dovranno ovviamente dimostrare di avere effettivamente spesso ciò che a suo tempo è stato dichiarato.